Trasporto pubblico, acqua, rifiuti e non c'è un programma, non c'è una visione. Se lei vede nelle altre capitali europee come sono gestite, cosa viene investito. Roma è terzo mondo, vero e proprio terzo mondo. La situazione di degrado assoluto della città, che poi nasce secondo me da una miopia di chi ci ha amministrato per quasi 30 anni. Si arriva sempre all'emergenza in tutto. Siamo preoccupati, ma fino a un certo punto credo che si debba soprattutto razionalizzare l'uso dell'acqua che c'è. E che sia un po' una cosa, come sempre, un po' montata sul fatto che acqua c'è e non c'è. Speriamo che chi ci governa, non ho la minima fiducia in questo comune, nell'aggiunta Raggi, possa prendere decisioni buone. Perché l'acqua ci serve, fa tanto caldo, per il momento non ho notato nulla, però è tutto molto tranquillo. Sì, sono allarmata di questo fatto, perché penso che l'acqua è una cosa vitale e non è un oggetto negoziabile ed è un diritto di tutti. Non è sicuramente un problema della città di Roma, è un problema di un cambiamento più sostanziale che sta coinvolgendo, vabbè, una parola grossa, il pianeta. Sicuramente la nostra parte d'Europa, diciamo, che era più abituata a un clima continentale, quindi con precipitazioni, invece diventano sempre più rare. Quindi se dare la colpa soltanto poi alla gestione su Roma, ai buchi dell'acqua, mi sembra semplicistico. Grazie.